Questa canzone fu composta nel 1967 da Bob Tien e George David Weiss ed è stata portata al successo da Louis Armstrong che l'ha incise l'anno successivo. Il testo ottimista e la sua melodia orecchiabile passarono quasi inosservati negli Stati Uniti ma diventarono un grande successo in Europa. What a Wonderful World è stata portata al successo grazie alla magistrale interpretazione di Louis Armstrong. Dall'immagine rassicurante e in grado di raggiungere tutti grazie alla sua personalità il trombettista e cantante statunitense venne scelto dai due autori dopo la stesura della canzone. Questo brano portato al successo dal grande trombettista jazz Louis Armstrong è stato scritto in un periodo storicamente fondamentale per gli Stati Uniti alle prese con le lotte per i diritti civili, l'assassinio di Martin Luther King, le rivolte razziali e la guerra in Vietnam. Questo è il contesto storico in cui nacque la canzone. È una canzone che invita a soffermarsi sulle piccole cose che offre il mondo, un respiro profondo per rendersi conto di dove si vive e quanto è meraviglioso ciò che abbiamo. Prima di procedere con lo studio del brano ci soffermiamo sul testo tradotto per cercare di comprenderne il significato. Vedo alberi verdi e anche rose rosse, le vedo sbocciare per te e me e penso che mondo meraviglioso. Vedo cieli azzurri e bianche nuvole, il giorno luminoso, beato, la solenne notte buia e penso tra me e me che mondo meraviglioso. I colori dell'arcobaleno così belli nel cielo sono anche sui volti delle persone che passano. Vedo amici che si stringono la mano dicendo come va, ma in realtà dicono ti voglio bene. Sento i bimbi gridare, li guardo crescere, loro apprenderanno molto di più di quanto io possa mai immaginare. Penso fra me e me che mondo meraviglioso, sì penso fra me e me che mondo meraviglioso. La struttura del brano comprende quattro sezioni. A livello melodico abbiamo un primo tema A di otto battute che è evidenziato dal colore verde intenso che questo tema viene poi ripetuto. Poi abbiamo un tema B che è evidenziato dal colore giallo sempre di otto battute e infine ritorna il tema A che è un po' più lungo perché comprende anche le ultime quattro battute della coda. Guardiamo velocemente la prima parte e che figure musicali particolari troviamo. Abbiamo la semi minima col punto nella prima battuta e sappiamo già che si prolunga il suono. Poi nella quarta battuta abbiamo una tersina che vale un quarto e nella battuta successiva una tersina che vale due quarti. Bisogna quindi distinguere bene tra la tersina che troviamo nella quarta battuta che vale un quarto quindi tre suoni stanno all'interno di un movimento che come sappiamo è formato da un battere o levare e invece la tersina che c'è nella battuta successiva che vale due quarti quindi tre suoni saranno distribuiti all'interno di due movimenti. Ultima cosa da notare prima di cominciare l'esecuzione è il fatto che ci sono molte legature che stanno a significare che il suono si prolunga nella nota successiva. Esaminiamo la tersina. La prima possibilità tre suoni all'interno di un movimento ta-te-ti seconda possibilità una delle tre note è rappresentata da una pausa che chiameremo um e quindi avremo ta-te-um oppure ta-un-ti oppure un-ti-tri. terza possibilità invece abbiamo una tersina più ampia che sta in due quarti e in questo caso avremo ta-te-ti avete sentito la differenza con la tersina che stava invece all'interno di un movimento quindi di un quarto ok esercitiamoci un po con l'esecuzione dei sei ritmi che trovate a destra ricordatevi che la semi minima diventa ta la coppia di chrome e ti ti è in questo caso la tersina diventerà ta-te-ti. inizio con il primo ritmo ta ta ti ti ta 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 ti 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 ta 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 ti 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 ta 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 e seguo adesso il secondo ritmo want to three fortata trattati tà trattati tità ttt trattati tità trattati tità terzo ritmo tratti tità tratti tità trattati di tità 18 didditi trattate di carta edità seguo il quarto ritmo quinto ritmo inizio con l'esecuzione ritmica del tema 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 3, 3, 4, 1 Uno, ti, ti. One, two, three. One, two, three. Lo, mi, fa, fa, do. Re, 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 do. Si, 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 la. Sol, 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 fa. Fa, 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 fa. Fa, fa, mi, fa, sol, la. One, two, three. I see trees of green. Red roses too. I see them bloom. For me and you. And I think to myself. What a wonderful world. E ritorna il tema. One, two, three. Ti, ti, ta. Ti, ta. Un, ti, 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 ta. Un, ti, 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 ta. Un, ti, te, ti, ta. Te, ti, ta. Te, ti, ta. Uno, un, ti, ri, ta. Te, ti, ta. And I think to myself. Un, ti, 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 ta. Un, ti, 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 ta. Un, ti, 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 ti. I see skies of blue and clothes of white The bright blessed day, the sacred night And I think to myself, what a wonderful world One, two, three Titi ta, tiiti ti esta, ti 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 ta Um ti 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 da, ta ta ta, ta ti ti but I never know and I think to myself da di 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 da di 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 da Fa so 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 do. Fa so 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 do. Si, la, la, so, la, la, do, re, re, to, la, la, re, 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 to, re, 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 to, do, si, la, so. And I think to myself, the colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see a friend shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. One, two, three, ti-ti-ta, ti-ta, un ti-ti-ti-ta, un ti-ti-ti-ta, un ti-ta-te-ti-ta, te-ti-ta-te-ti-ta, uno, un ti-ri-ta-te-ti-ta, uno, da-ta-ta-te-ti-ta, uno, un ti-ri-ta-te-ti-ta, uno, un ti-ri-ta-te-ti-ta, uno, da-ta-ta-te-ti-ta, uno, un ti-ri-ta-te-ti-ta. Sì, 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 te ti ta, te ti ta, te ti ta. Mi fa, fa do, re 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 do, si 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 la, so 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 fa, fa 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 fa, fa fa mi fa so la. La, 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 fa so fa, fa 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 so fa. I have babies right, I watch them go, they'll be much more than I'll ever know, and I think to myself, what I want to do, yes I think to myself what I want to do. Ebbene dopo aver studiato il brano scomposto e ricomposto in tutte le sue parti adesso siete pronti per eseguirlo o con il flauto o anche potete cantarlo. Ricordatevi un cinque minuti di training vocale e buon divertimento.